Apriamoci alla bellezza, titolo emblematico per l'apertura straordinaria dei più suggestivi siti lecchesi. Torno all'appuntamento con il progetto promosso dai comuni soci di Lario Reti Holding e dalla Fondazione Comunitaria delle Lecchese, 60 luoghi di interesse artistico e storico che coinvolgono 7 circondari in Brianza, Valle San Martino, Valsassine e Sponde dell'Ario Orientale. Musei, chiese, borghi, dove fino a novembre troveranno spazio ai laboratori, visite guidate, conferenze e concerti. Si inizia l'antico granaio di Villa Greppi a Monticello il 17-18 giugno con la presentazione dei libri Contro i Borghi, Il bel paese che dimentica i paesi e Agrumi, una storia del mondo. E ancora visite guidate a Robbiate, sulle orme dei pellegrini a El Giono, con la musica La Fornace di Barzio, Il sacro Bellano, Colico Mandello, Segantini, Avendronio, il Medioevo, sul Monte Barro. Per conoscere tutti gli eventi è possibile accedere al portale www.discoverylecco.it, da quest'anno anche in lingua inglese. Le novità di queste edizioni sono il potenziamento e l'ampliamento delle aperture dei siti coinvolti all'interno della rassegna. Si tratta come lo scorso anno di sette circondari che da Merate a Casate Novo, passando per Oggiono, Lecco, La Valsassina e Lario, aprono i loro luoghi di interesse al pubblico e ai visitatori con visite guidate, conferenze intorno ai libri con autori e poi ci saranno aperture straordinarie di luoghi che altrimenti non sono accessibili quotidianamente al pubblico. Un turismo di prossimità reso possibile proprio da questa iniziativa di Lario Reti insieme alla Fondazione e insieme soprattutto ai comuni soci. Sì esatto, grazie al contributo di Fondazione e di Lario Reti gli enti e le associazioni coinvolte riescono a potenziare ed ampliare la fruibilità dei loro luoghi grazie al coinvolgimento anche di giovani competenti, di nuovi volontari che in questo modo riescono a garantire una maggiore accessibilità e anche una cura dei luoghi del territorio, trasmettendo anche il valore delle tradizioni e della conoscenza del territorio stesso che viene così fruito dal visitatore grazie alla presenza di persone locali coinvolte nel progetto.